salve vedete questo video sono ancora in vacanza circa che in realtà vacanza non è perché stavo già registrando e sto ancora dormendo ancora di meno di quanto dormivo prima e non è cambiato niente allora cosa volevo dirvi le serie di o meglio voglio dire come vorrei dirvi come andrà il canale durante settembre possiamo definire la realtà durante l'autunno più o meno l'idea è che prima di tutto ci sarà una serie principale come ho fatto the witcher non penso che durerà quanto the witcher spero di no perché sennò mi sparo e proprio per quanto riguarda the witcher vorrei dire una cosina allora i dlc li farò tra una settimana città una settimana 2 circa così mi posso stemperare mentalmente perché giuro il gioco è stupendo eccetera eccetera però mi sta facendo il lavaggio del cervello e non ce la faccio più è bello è bello sì tutto il resto però cristo quanto il pungo dice non lo so una settimana 2 farò anche dlc l'ho già iniziati sbaglio mentre facevo giravo in giro per la mappa lo ne è partito uno mi pare è partito il secondo dlc ma state tranquillo registrato già tutto quindi non è problema una cosa non c'è stata la mia voce altra cosa da dire oltre la serie di settembre che tecnicamente potrebbe diventare la serie latunnale indipendente indipendentemente da quanto duri è una serie che dove noi partiremo per un viaggio in moto e basta di o nient'altro chi ha già capito non dica un cazzo non dite niente non spoilerate che c'è riscosi quindi partiremo per un viaggio mentre un altro dettaglio che vorrei chiedere almeno se vi basta la serie perché allora come ho fatto con the witcher ha portato ha cercato di portare qualcos'altro però come al solito the witcher i primi tre video è andato bene poi è andato tutto come al solito a rotoli perché la serie è durata troppo diciamo che vorrei associarla a qualche altra serie magari l'idea era portare un gioco da l'ailtales e magari qualcos'altro quindi non saprei dirvi anche perché arriveranno i giochi gratuiti di settembre che sono due puttanate ma non è anzi non dico che no aspetta 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 come dire che i giochi erano brutti forse uno ma tipo street fighter va bene però io sono del tipo che non gioca i picchiaturi per giocarli in online non l'ho mai fatto neanche lo facevo su blast blue che è il mio piccaturo ferito quindi cioè io giocavo la storia è bassa blast blue è fatto unicamente per la storia quindi cioè quindi posso dire che per questo street fighter non è che mi interessi più di tanto alla fine e poi è il 5 è la versione normale del 5 quindi c'hanno 10 personaggi quindi il 4 è decisamente meglio poi vabbè c'è sta la player battleground a 9 vatte la pesca la non mi interessa perché è un battle royal cioè sì ok ho giocato con full guys neanche c'è sto giocare più full guys quindi ce l'ho installato perché nel caso si possa giocare con gli amici o con gli iscritti e cose così ce l'ho installato ma non ci sto neanche più giocando e niente giusto per dirvi questo se fatemi sapere se cioè volete anche la serietta secondaria che ne so magari che ne so se faccio se veramente dura tutto l'autunno la prima serie principale ci schiaffo sotto due o tre serie un asciotto ne so un gioco tra tale tale oppure ci metto che ne so qualcos'altro tipo potrei continuare anche a i valli anche perché l'ho mollato un po perché non c'ha ogni volta che ottene un ending su un cannivale deve iniziare da capo ed è un problema anche se non ho capito anche se da quello che ho capito posso anche tranquillamente fare diverse cose rapidamente tipo non fare i giri eccetera eccetera però non sapevi dirvi quindi fatemi sapere cosa ne pensate anche che non ho molto ripeto ragazzi non non posso comprare niente anche perché dei giochi usciranno tra un po ci sarebbe uno un dlc l'espansione di the other world sarebbe interessante poterlo giocare ancora the other world perché è stato un giochino niente male fatto divertire sì e niente fatemi sapere la vostra c'è questo è quello che volevo dirvi meglio quello che volevo spiegarvi il video durerà ancora un poco in realtà perché doveva usci in realtà più corto mi sono sbagliato a tagliarlo però vediamo cosa posso fare fatemi servire la vostra questo è ciò che accadrà durante diciamo settembre e durante l'autunno e niente c'era possibile ragazzi mi ricordo come al solito mi piace sui video i commenti se siete interessati a qualcosa news e cose varie trovate anche il discord da qualche parte lo metterò nei commenti tranquilli troverò nei commenti il la passo non la password il link per entrare e niente c'è la prossima ragazzi migliorare con gay palamato a camere mondo bye bye ciao 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 ciao